Sei pronto per una nuova stagione sportiva? Abbiamo nuove proposte e nuove attività per te per marcare la meta nello sport che ci piace di più. WISP è sport inclusivo e sostenibile. Sport per il piacere di muoversi ma anche di mettersi alla prova. Sport che abbraccia e non ha confini. C'è una tessera anche per te ed è sempre più sostenibile. Al momento del tesseramento lascia la tua mail per ricevere le credenziali per accedere all'app WISP dove troverai la tua tessera in formato digitale insieme a servizi, news e aggiornamenti a portata di click. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS